Quella di Corinaldo è una tragedia che ha coinvolto tutte le marche. Io desidero innanzitutto fare le condoglianze alle famiglie colpite da questa tragedia. È un abbraccio particolare a Corrado perché provo a immaginare da giorni quello che sta vivendo. Vorrei che sentisse il calore di tutti, anche il mio personale. Lei personalmente in questi giorni sta vivendo un momento anche personale sulla città di Fano importante. Rispetto ai fatti che riguardano i cittadini sicuramente questa è una cosa meno importante e specialmente in questo momento, come dicevamo prima, ci sono ben altre cose più importanti. Però ci tengo a chiarire perché col mio nome si è spesa troppa gente e hanno fatto anche troppi commenti che non mi sono piaciuti. Io ho sempre avuto una grande passione per la mia città, mi sono sempre impegnato per la mia città, quello che fosse il mio ruolo, sia quando ero in Comune, poi in Regione o quando ho lavorato al Senato. Quando ho potuto ho cercato sempre di dare qualcosa alla mia città e penso che i fatti ancora siano vigenti perché da quella volta ancora alcuni benefici rimangono. Pensi solo alla caserma che ancora oggi vive di quel contratto che ho iniziato io nel 2006 o come altre tante cose. Però al di là di questo ci tengo a chiarire un aspetto. Io non ho cercato nessun partito e non voglio accasarmi, non sto facendo il salto del caro del vincitore. Tutte cose che mi sono state attribuite da persone che probabilmente sono mosse più dalle invidie che da un ragionamento politico. Ci tengo a chiarire che non siamo e non sono iscritto alla Lega. Io ho aderito a Progetto Fano che è una lista che ho creato io nel 2014. La settimana scorsa, mercoledì sera, abbiamo partecipato a un incontro con la Lega per parlare del rafforzamento della Lega poiché Massimo May aveva espresso tantissimi apprezzamenti nei miei confronti e devo dire che mi ha fatto anche piacere ricevere da un esponente della Lega degli apprezzamenti pubblici su quello che ho fatto, sulla potenzialità di essere anche d'aiuto ai più giovani che si volevano candidare alle elezioni comunali. Questi apprezzamenti stavano per diventare una collaborazione, comunque si stava valutando se poteva nascere una collaborazione, ma visto il clima che si è instaurato, ma soprattutto cosa che io non immaginavo, l'accanimento che c'è stato nei miei confronti, io ritengo che sia necessario chiarire, per questo volevo fare questa intervista, che io non sono iscritto alla Lega né non sono iscritti Marianna Magrini e Gianluca Ilari che sono i due consiglieri comunali della lista Progetto Fano e che noi proseguiamo, così come abbiamo sempre fatto con le nostre gambe e sulle nostre gambe, a fare politica nella città e per la città. Sosterremo nel 2019 luciatarsi, come abbiamo detto, e gli daremo un contributo affinché possa essere il sindaco migliore che la città di Fano potrà avere per il futuro.